Ti sei mai chiesto perché alcune aziende esplodono letteralmente e altre sembra che facciano veramente fatica ad andare avanti? Oggi vediamo come identificare il nostro mercato di riferimento per cercare di aumentare le nostre probabilità di avere successo. Infatti conoscere il mercato non solo ci permette di capire i bisogni dei nostri clienti, ma ci permette anche di anticipare le tendenze, posizionarci meglio rispetto alla concorrenza e questo ci permette non solo di sopravvivere ma prosperare in un mondo incredibilmente competitivo. Allora quello che dobbiamo fare è, punto numero uno, analizzare i nostri clienti attuali. Dobbiamo capire chi sono, che cosa amano, che cosa odiano e dobbiamo capire quali sono i problemi che grazie al nostro prodotto o servizio vengono risolti. Il secondo punto riguarda l'analisi della concorrenza. Noi dobbiamo studiare i nostri concorrenti, i principali tendenzialmente, per capire quali sono i loro punti di forza e i loro punti deboli. Questo ci permette di capire cosa fanno bene, dove sono più carenti e quindi identificare o opportunità scoperte che potremmo attaccare. Dobbiamo poi segmentare il nostro pubblico, il mercato. Noi dobbiamo dividere il mercato, questo ipotetico mercato, in tante piccole categorie basate sulle caratteristiche comuni come età, sesso, comportamento o scavare ancora più nel profondo e identificare che cos'è che muove realmente le persone. E questo ci permetterà di creare delle offerte su misura per ognuno di questi segmenti, creando finalmente delle comunicazioni che colpiranno nel segno e che funzioneranno. Infine, il quarto punto riguarda la raccolta dei dati e l'analisi dell'esperienza d'acquisto dei nostri clienti. Dovremmo quindi capire, ad esempio, che cosa gli piace di noi, che cosa no. Un ottimo modo è quello di sfruttare i sondaggi proprio per capire queste caratteristiche e cercare di individuare i nostri punti deboli. Ci permette innanzitutto di migliorarli, quindi andare a tamponare. Ma questo ci permette anche di identificare i punti di forza che spesso sono molto diversi rispetto a quelli che crede l'imprenditore. Di recente ho lavorato con una palestra che l'imprenditore era convinto che le persone scegliessero la sua palestra perché lui è molto preparato. Al contrario, secondo i sondaggi, le persone andavano lì perché era un ambiente veramente positivo, un gruppo molto coeso e le persone andavano lì perché gli piaceva proprio stare insieme. Ed era una motivazione totalmente diversa rispetto a quella che aveva l'imprenditore. Poi andarlo a comunicare è tutto un altro discorso in questo esempio specifico, però noi dobbiamo capire che cosa spinge realmente i clienti a sceglierci. Per cui oggi ti invito a ragionare su questo, a identificare chi è il tuo pubblico ideale, che cos'è che li spinge all'acquisto e iniziare a ragionare proprio per gruppi di clienti, per segmenti. Ragionare in questo modo ti permetterà di essere più efficace in tutto il tuo business, nella creazione delle tue offerte, nella creazione del tuo messaggio e che a sua volta ti permetterà di avere un'attività che cresce costantemente. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, come dico sempre, le persone possono acquistare lo stesso prodotto o servizio per motivazioni diverse, anche se il prodotto è lo stesso. Quindi io posso iscrivermi in palestra perché voglio perdere peso, oppure posso iscrivermi in palestra perché voglio mettere su un bel fisico. La soluzione è la stessa, palestra, ma la motivazione è diversa. Quindi tu devi ragionare come se quei clienti fossero totalmente diversi, perché hanno bisogno di una comunicazione ad hoc, di un messaggio ad hoc e potenzialmente anche di un allenamento ad hoc. Quindi ragioni seguenti e tutta la tua comunicazione e il tuo business ne trarrà giovamento. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!